Nel video precedente ci siamo fatti un po' le ossa con il formato JSON. Applichiamo allora per completare l'esercizio lasciato in sospeso due video fa. La prima parte della pagina con la form è identica a quella che avevamo già visto quando ci eravamo fatti restituire i dati in formato HTML. Si richiede l'elenco delle province al server e si costruisce la drop-down list per la scelta della provincia. E non starò a ripetermi nelle spiegazioni. Sotto il div con il tag select con il quale dovremo costruire invece l'elenco dei comuni di quella provincia scelta. Andiamo alla parte javascript con il setup della pagina, $document.rid setup che è questa qui. Nascondiamo la select dei comuni. Sarebbe esteticamente sgradevole e anche fuorviante vedere una drop-down list vuota. Aggiungiamo a tutte le select la classe custom select per stilizzarle con bootstrap. E al solito programmiamo l'evento change sulla drop-down list delle province per richiamare la funzione richiede elenco comuni. Svuotiamo la drop-down list dei comuni che potrebbe contenere un elenco vecchio. Estraiamo l'id della provincia. Finalmente la parte più interessante che utilizza la forma più completa di un'invocazione ajax tramite jQuery. Il metodo è il .ajax che prevede al solito come primo parametro la pagina da richiamare sul server. E il secondo parametro, non fatevi ingannare, è uno solo, comincia qui e finisce qui, che è un oggetto javascript che può contenere una gran quantità di parametri, ma non necessariamente tutti. È un metodo furbo che permette di specificare solo quello che serve. La property type indica la tipologia dell'http request, naturalmente. Data già lo conosciamo. Come value ha a sua volta un altro oggetto che specifica le coppie chiave-valore che potrà recuperare poi la pagina php. Id provincia è la chiave da estrarre dal loro post. Id provincia form è quella che abbiamo valorizzato qui con il codice della provincia scelta. La terza property individua invece una funzione d'errore, che non ricordo se l'avevo già detto in precedenza. Errore nella gestione della chiamata ajax. Dovesse fallire per qualunque motivo. Speriamo invece che intervenga la funzione indicata qua nella quarta property, success, abbiamo ottenuto una risposta valida dal server. Non poteva mancare il richiedere il formato json. È l'ultima property, data type json. Attenzione, questo significa che se per qualche motivo la pagina php pasticcia un po' col formato json e restituisce qualcosa che json non è, avremo problemi. Vediamo subito la funzioncina senza tanta fantasia. Errore. Bella alert. E non se ne parli più. E poi il piatto ricco. Qui c'è da capire una cosa molto importante. È vero, noi abbiamo richiesto il risultato in formato json. Ma quando il browser intercetta questa risposta e la valida, cioè riconosce un corretto formato json, quello che invia alla funzione che sta aspettando la risposta, come parametro risposta server, non è in formato json, ma è già trasformato in formato oggetto javascript. Occhio a non pensare di doverne fare il parsing. Faremo pasticci. Come vedremo tra pochi secondi, la stringa json è tale che andrà a generare un oggetto javascript fatto così. Property elenco comuni. Il value è un array dove ciascun elemento è un oggetto javascript con due property, l'id del comune e il nome del comune stesso. C'è però un caso particolare, cioè se la provincia non avesse comuni, come fa a farmelo capire il server? Io ho pensato comunque di far restituire l'oggetto e come id comune metterne uno speciale, meno uno. Ecco perché qua sotto controllo proprio del primo elemento il suo id e solo se è maggiore di meno uno, e cioè sono stati trovati comuni al meno uno, aggiungo tramite il metodo append di jQuery, al tag select con id comuni, uno option è sfrutto questa classe già pronta all'uso, new option, il primo parametro è chiaramente la descrizione che si vedrà in corrispondenza di questo option, e meno uno il value. Poi iteriamo comunque sull'intero array, perché anche quando non trovo nessun comune, gliene metto uno fasullo, poi lo vediamo, che avrà come id meno uno, e come descrizione una roba tipo nessun comune trovato. E ricordate, quando siamo in questa situazione, non avremo neanche appeso la voce con scegli un comune, perché non avrebbe senso. Vedremo solo, comune non trovato. Nel ciclo, sempre con l'appenda appena visto, e new option, tante option, ciascuna con la sua descrizione, prendiamo l'elemento iesimo di questo array, di elenco comuni, componente punto comune, cioè Mantova, Milano, e come value, l'id del comune. Terminata la generazione delle option, rendiamo visibile la drop down list dei comuni. E andiamo a vedere la pagina PHP. Sì, beh, questo è il solito commento che copia e incolla. Il comando select è identico a quello dell'altra volta. Magari potreste aggiungere un order by comune. Anzi, lo faccio, dai. Riceviamo il risultato da MySQL e siamo pronti per cominciare a costruire la risposta in formato JSON, la stringa JSON. La inizio con gli apici, perché sapete che JSON poi vuole obbligatoriamente come delimitatore delle property, le virgolette. Questa è la property, sto seguendo, vabbè, l'ho riportato anche qua sotto, per comodità, questo schema. Questa parte ci va sempre, anche quando non ci sono comuni, perché devo aggiungere il comune fasullo, nessun comune trovato, id-1. È il senso di questo controllo. Se nel risultato troviamo almeno una riga, vuol dire che almeno un comune l'abbiamo trovato. E allora si procede. Altrimenti aggiungiamo a mano, come ho detto tante volte, ormai questo comune fittizio. Nella parte else. Aggiungiamo, eh, attenzione, perché ci serve anche la parte già impostata qua. Ma diciamo che abbiamo trovato almeno un comune. Qua tecniche ce ne possono essere diverse, io sono andato su quella più lineare, che quando ci fosse un solo comune non c'è da aggiungere nessuna virgola nell'array. Altrimenti sì. Allora, ho processato a parte il primo comune che c'è per forza, perché se è maggiore di zero il numeroso. Lo estraggo, con la mysq.ly fetch assoc, poi separo le componenti per avere la variabile dollore di comune e dollaro comune da utilizzare qua per aggiungere il primo oggetto json nella stringa json e di comune, comune. Per tutti gli altri devo, vedete, prima mettere la virgola separatrice e poi aggiungere quel comune. Terminato tutto, anche fuori dell'else, in ogni caso va chiusa la stringa json in questo modo. Finito. Spariamola in output, vabbè, e chiudiamo la connessione con mysq.ly. Se non vi piace la gestione separata del primo record, si può seguire anche un'altra strada, ve ne propongo una tra le tante, che mantiene la stessa performance perché non fa testa all'interno del while per capire se è il primo comune che stiamo gestendo o i successivi, ma che comunque complica un filino il codice. Non c'è, come dicevo, gestione separata è prima del while del primo comune. e sempre e comunque nel ciclo while metto la virgola e alla fine, se ci pensate, ci ritroveremo con una virgola di troppo. Letto l'ultimo, comunque metteremo la virgola. Ok, togliamola. Prendo tutta la parte di stringa pari a lunghezza stringa meno uno, fino alla graffa, insomma. E questo chiude l'esercizio. Per un po' la playlist, non so per quanto, starà in stand-by, anche perché mi voglio concentrare su quella nuova, su Dart e Flutter. A risentirci. a risentirci. Allora, a risentirci. a risentirci. a risentirci.